Bella ragazzi, prima del video mi raccomando, non dimenticate di fare un salto sul primo link in descrizione Instant Gaming ragazzi, dove troverete, come state vedendo, anche un sacco di ricariche per la Playstation a prezzi veramente ridicoli Mi raccomando, primo link in descrizione, Instant Gaming When the world is calling you, can you hear that dream in the end? Weee, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xyodea e ragazzi, nel video di oggi voglio parlare insieme a voi di un sacco di novità riguardanti i prossimi giorni di Fortnite Ovviamente dobbiamo iniziare a parlare del prigioniero ragazzi, sappiamo che è nascosto, anzi è imprigionato sotto al castello Oggi vedremo un po' di immagini molto interessanti che ci schiariranno un pochettino le idee Ovviamente ragazzi non mancheremo anche di dire un paio di cose sul pupazzo subdolo ragazzi Lo abbiamo visto nelle news e ovviamente tratteremo anche delle nuove skin che stanno arrivando su Fortnite Ma prima ragazzi, ve lo ricordo sempre, mi raccomando, un bel pollicione in su Se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi in tantissimi al canale Non l'ho portata nel nuovo studio, porca miseria E attivate la campanella per non perdere nessun aggiornamento e nessuna news Ma prima ragazzi, eh la domanda, la domanda ve la devo fare assolutamente E voglio proprio le vostre risposte qua sotto, nei commenti ragazzi Ma la tua arma esplosiva preferita qual è? Dimmi un po', la mia personalmente è l'RPG Non c'è niente da fare, io amo il lanciarazzi in una maniera veramente incredibile Voglio sapere invece qual è la vostra preferita qua sotto, nei commenti Ma quindi, ciancio alle bande e bando alle ciance Andiamo subito subito a parlare del nuovo pupazzo subdolo Dovrebbe arrivare tra poche ore con l'update 7.3 Credo che sia il 7.3 Comunque update che non avrà bisogno di downtime dei server Quindi ragazzi, non ci sarà nessun problema Alle ore, probabilmente alle 2 Lo rilasceranno, sto registrando prima che ci sia la notizia ufficiale Non avrete che da riavviare semplicemente il gioco In modo da avere al 100% tutte le nuove modifiche Tra cui appunto il pupazzo di neve subdolo Che non è altro che un travestimento ragazzi Lo troveremo sicuramente nei chest, negli airdrop Forse anche nei lama E servirà per mimetizzarci nella mappa Come appunto se fossimo un pupazzo di neve La cosa molto particolare è che nella mappa Non esistono i pupazzi di neve Quindi bisogna un po' vedere se magari con l'update Arriverà qualcosa del genere Che magari potrebbe dare col brio in più A tutta la neve che ragazzi vi ricordo Abituatevi a tenerla sott'occhio Perché ne avremo davvero per tanto tempo Con questa neve Ma andiamo avanti ragazzi e parliamo subito Della nuova skin ritrovata da pochissime ore Nei file di gioco È già praticamente super confermata C'è anche la possibilità che sia nello shop di oggi Io in realtà non lo so perché sto registrando prima della una La nuova skin ragazzi è tennista Molto carina L'abbiamo già vista in realtà La fisionomia Altre skin femminili L'hanno molto simile Comunque direi che ci sta Con tanto di piccone a forma di racchetta Molto simpatico il piccone a forma di racchetta Penso che entrambe le piccone e skin Siano rare Quindi 1200 per la skin 800 per il piccone Ci può stare una skin Senza troppi fronzoli Ma andiamo avanti ragazzi E parliamo invece del tweet ufficiale di Eric Williamson Ve lo ricordo Uno dei capoccia del team di Epic Games Che dice ragazzi Questa settimana arriverà Il nuovo update Sistemeranno Faranno delle piccole modifiche Agli shieldini Alla possibilità di trovare gli shieldini Secondo me li diminuiscono Ridurranno un pochettino La velocità Boh Non so se parlano dei veicoli E degli oggetti Non capisco bene cosa intenda con precisione E faranno ragazzi Anche una modifica Al quad launcher Probabilmente ragazzi C'è anche il rischio Che il quad launcher Verrà in realtà Eliminato Perché se leggiamo bene Dice And few more volts Including quad launcher Quindi quando si dice Volt Vuol dire eliminato Probabilmente Non vedremo più Il quad launcher Anche se io spero davvero Che ci sia solo una sistemazione Ma non penso Ho paura Che lo dovremo Salutare Andiamo avanti ragazzi E parliamo invece del prigioniero Questa è un'immagine Super super interessante Che va appunto A zoomare A riprendere Quello che c'è sotto Al castello Di ghiaccio E come vedete ragazzi Una mano Incatenata Che potrebbe essere Quella del re del fuoco Non so se avevate visto Il mio video Sulle teorie Del re del fuoco E del re dei ghiacci Che esce appunto Dall'ultimo blocco Di ghiaccio È presente appunto Nel castello E quindi Si sta liberando Tra l'altro Sappiamo ragazzi Che il prigioniero Si libererà Perché abbiamo Questa è un'altra immagine Un pochettino più larga Come vedete Ci fa capire Dove è Incatenato Il prigioniero Ma abbiamo ragazzi Queste immagini Che sono Molto più interessanti E che riguardano Appunto Le texture Del prigioniero Come vedete Questa è la sua Skin Tra virgolette E abbiamo anche Un'altra immagine Molto interessante Ma anche molto Confusionale Si vede Semplicemente Ragazzi Che c'è Nella parte di sinistra Il simbolo Del fuoco Quindi è Quasi sicuro Che il prigioniero Come vi anticipavo Possa essere Il re del fuoco Ovviamente Ragazzi Appena ne sapremo Di più Lo saprete Anche voi Ma andiamo avanti E parliamo Delle sfide Invece Della settimana Numero 8 Quelle che arriveranno In questo giovedì Ragazzi Sfide abbastanza Interessanti Ci dicono Vi dico sempre Prendetele con le pinze Potrebbe esserci Qualche leggera Modifica Di solito No Ma io ve lo dico Per correttezza Prima sfida Costruire strutture Costruire roba Principalmente Fare danni Ai passeggeri Dei veicoli Quindi ragazzi Attenzione Occhi al cielo Quando vedete Giocatela in squad Quando vedete Gli areoplani Probabilmente dovremmo Danneggiare Chi li sta guidando E chi è sopra Insieme al guidatore Fare Eliminazioni Con armi Esplosive Quindi granate Dinamiti RPG Lancia granate Insomma Killare i nemici Con le armi esplosive Sempre meglio fare Queste missioni O in squad O nelle modalità Tipo rissa A squadra Nelle LTM Cercare Forzieri A condotti confusi O a rifugio Ritirato Come sempre Saranno sette I forzieri I forzieri I forzieri da cercare Potrebbe essere Quello credo Nella seconda Nella seconda fase Di questa sfida E come fase finale Visitare Le montagnole maledette E il bosco Blaterante Quindi ragazzi Sappiamo già Le sfide della settimana 8 Con un bel anticipo Voglio terminare Ragazzi Facendovi vedere Quest'immagine Incredibile Che può sembrare Una cagata Perché sono solamente Delle righe Di scritte Ma in realtà Sono presenti Nei codici Di gioco E guardate Quella che vi ho evidenziato Teleport to Island Dock Voglio semplicemente Dirvi Di guardare Il mio video Del bunker Quello uscito L'altro ieri mattina E poi ragazzi Farvi due conti Su quello Che vi sto facendo vedere In questo momento Io per adesso Vi ringrazio tantissimo Per avere guardato Questo video Mi raccomando Un bel pollicione in su Iscrivetevi al canale Noi Ci vediamo presto Ciao